Vediamo un altro problema di ordinamento delle frazioni. Dobbiamo ordinare queste frazioni in maniera crescente e vediamo due quinti, quattro quinti, due settimi, tre settimi e cinque settimi. Allora, mentre un primo gruppo è già ordinato, perché due parti su cinque e quattro parti su cinque, ovviamente due quinti è più piccolo. Così, allo stesso modo, gli altri tre sono già parzialmente ordinati, cioè due settimi più piccolo di tre settimi che più piccolo di cinque settimi. Per quanto abbiamo detto anche in un esercizio precedente, se noi prendiamo due quinti e due settimi, dividere una porzione, in questo caso due elementi per sette, produce delle parti più piccole che non dividerle per cinque. E quindi, chiaramente, il nostro due settimi è più piccolo del due quinti. Viene però da chiedersi, a questo punto, dove si posiziona il tre settimi. Perché il tre è più grande di due, e quindi sembrerebbe poter essere maggiore, ma sette è più grande di cinque, e quindi il sette produce delle parti più piccole. Quindi, non c'è chiaro se il tre settimi lo dobbiamo posizionare di qua o di là dal due quinti. Poi, sicuramente, avremo il quattro quinti qui, e allo stesso modo non sappiamo esattamente dove posizionare il cinque settimi, perché i cinque settimi abbiamo che cinque parti è più grande di quattro, però dividere per sette produce delle parti più piccole, quindi abbiamo più parti, ma le parti sono più piccole. Quindi non è così semplice capire dove si vanno a posizionare questi due elementi. Per farlo in modo coerente, dobbiamo necessariamente trasformare le frazioni in gioco nelle loro frazioni equivalenti con un denominatore comune. E il denominatore comune, in questo caso, è trentacinque, perché abbiamo in gioco il sette e il cinque. E quindi vediamo che, se trasformiamo il due quinti in trentacinquesimi, vuol dire moltiplicare tutto per sette, quindi ci diventa quattordici trentacinquesimi, avrei preferito farli in bianco, vediamo se ci riusciamo. Ok, quindi diventa quattordici trentacinquesimi, e invece il nostro quattro quinti, moltiplicato sempre per sette, diventa ventotto trentacinquesimi. Ok, quindi a questo punto facciamo la stessa cosa per i tre settimi e i cinque settimi. Qui vuol dire moltiplicare tutto per cinque, per portare il sette a trentacinque, quindi questi diventano trentacinquesimi, e sopra abbiamo un bel quindici, non un diciassette. Ok, quindi questo diventa quello, al posto di, abbiamo detto qui questi, possiamo per un attimo, diciamo, eliminarli per avere forse un po' più di chiarezza, e i cinque settimi lo, anche qui, moltiplichiamo per cinque, quindi anche lui diventa venticinque trentacinquesimi. Allora, a questo punto il confronto che dobbiamo fare è tra questo quattordici, che abbiamo qui, e questo quindici, quindi il quindici trentacinquesimi viene qui in mezzo dopo il quattordici, ma il venticinque, il venticinque trentacinquesimi vediamo che viene qui. E quindi il mio ordine finale sarà due settimi, continuiamo a usare il rosso, due quinti, e quindi ce lo teniamo buono qui, poi avremo il tre settimi, poi avremo il cinque settimi, e poi avremo il quattro quinti. E quindi ricapitolando, due settimi, due quinti, tre settimi, cinque settimi, e quattro quinti.